e bene a tutti ragazzi e ragazze il vostro caro mastro king e benvenuti in questo nuovissimo video come vedete siamo qui su minecraft stone block e diciamo leggermente sistema qui la zona della draconic e l'altra volta ho smagliato a sistemare invece state in alto vengono sistemati in questo modo e ho messo le batterie per il semplice motivo che il reattore è abbastanza potente per fare energia per mantenere questa zona qui però allo stesso tempo non è diciamo i cavi non sono abbastanza potenti per prendere energia da qui e metterla all'interno e quindi diciamo il sistema quello migliore è proprio questo ovvero mettere una batteria dedicata ogni componente direi tranquillamente stanno partito quindi come vedete ci sono ovunque i vari fulmine che stanno da una zona all'altra siamo già al 50% ok batterie sono vuote in teoria dovrei essere riuscito a sta rallentando direi velocemente di andare a prendere le batterie e di metterle a caricare per il semplice motivo che in questo modo diciamo che dovrei essere a posto ok 1 2 3 ma anche il quarto la quarta questa è la quarta ne sono persa una ora sicuramente bisogna persa un battito di sopra sì infatti è rimasta sopra ok ok sta craftando e direi che una volta che ha finito di craftare dovremmo essere a posto ok 60 attorno al 70% 80 90 ok abbiamo finito il crafting e allo stesso tempo anche una questa ovvero questa qui poi con calma andrò avanti per fare il crafting di tutto tu cosa sei ok non mancano le varie cose quindi diciamo farò l'upgrade di tutti questi affinché diciamo non ho tutti i vari componenti per poi andare avanti cosa mi dai ok cibo ora vediamo cosa potrei fare in teoria vediamo nella project e se ho la possibilità di fare qualcosa dubbio a parte il lagri sta qua e là ora intanto per il momento votete e te vi posso ora la devo sicuramente vedere questa è l'alchemical cesta ok non ho assolutamente niente da usare ok ce l'ho l'empower ok non posso craftare praticamente tu come li crafti factorizer nel casting ad enchanter che sicuramente mi servirà mi manca un libro incantato ora devo andare a controllare il libro incantato come lo posso andare a craftare questo manca il dark still polli duccio smelter still ce l'ho fornice no allo smelter ero 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 ingot obsidiana ok ero ingot obsidiana e ora il coval il proprio che dovrei andare a mettere intanto a te ti ah no non volevo metterli qui 1 2 3 ok indipendentemente dal diciamo dal numero di cose ci metto comunque è 1 quindi dovrei stare a posto intanto mi sto conservando i varie cose di di verde per il semplice motivo che in questo modo avrò la possibilità di andare avanti con le cose dell'isolar panel con quelle emissioni lì ok vediamo quanto so 50% e non posso o no no non vedo non volevo andare qua no niente da fare non ho la possibilità di fare tu cosa mi davi ah il mixer ti dai ok 95% dovremmo ok ora parte con l'altro ok enchanter che andrei tranquillamente a mettere qui per ora no vi la volevo innanzitutto che si pregasse un attimo che ora sicuro mi serve un book e quill oro ok coa le cose del genere e dell'apis ok siamo veramente veramente piccolo la distanza ora 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 sicuramente mi servirà da fare il book e in quill per le penne eccolo qui uh serve pure il nero ok ora ne vado a fare qualcuno per il semplice motivo che in questo modo andrò a craftarne un bel po' diciamo un bel po' di materiali intanto a te ti posso chiudere ok sono rimasto incastrato ora vediamo ok qui sembrerebbe che hai finito tette tette di tette poso anzi in teoria devo posare pure tette se se ogni tanto devo fare questo tipo di lavoro per svuotare la cesta che altrimenti è sempre sempre piena ok dovremmo essere a posto credo per un po' ok sembrerebbe di sé ora sicuramente vado a riposare voi di qua no non ho preso il le cose ora la pista e koal ok dovrei essere a posto per un po' ora sicuramente dovrò aprire di qua uno e due ok non ho abbastanza materiali però diciamo esperienza cosa che sarà fondamentale in futuro ora sicuramente ora vado a mangiare non voglio fare la transformation table ma l'alchemical cesta eccoli qua perché per fare no non voglio andare qua per fare l'alchemical cesta necessito di questi lingotti e per farli devo fare enchanter per fare enchanter mi manca tutta questa roba di qua e ok e l'enchanter lo andrò a mettere da quest'altra zona qui non posso mettere questa zona qui perché non gli serve energia quindi sicuramente servirà del ferro allora da qualche parte dovrei avere anche delle netestar no non ve lo cercare qui ok sinceramente non so se le netherstar ne bastano tu cosa sei raggiore li vengo ad attaccare intanto vi metto di qua è un semplice scheritro con un cappello a forma di creeper ok non volevo mettermi il tuo cappello per cioè il tuo scheritro per come cappello perché in questa zona qui ora togliendo il lag del gioco ok servirà sicuramente 1 e 2 no si infatti 8 con una netherstar ironingota perché non mi vai ah ok necessità delle bookshelf quindi le devo giustamente andare a cartare ora esattamente in questo caso dubbilo che no non voglio ripararti ma nel saw mill non so se ce l'ho sinceramente cosa perché pezzo mi manchi ok ok si ho un po' l'inventario pieno ora però ora vado a sgurare un po' non volevo craftare il secondo ok se ti metto di qui di lato la pre-energia se ok ora sicuramente andrò a prendere tutto quello che richiede richiedono le cose di leather poi una volta messa qui ovviamente le andrò a craftare ok sinceramente ci mette un po' di tempo però una cosa posso fare visto quello non lo uso è prendere te figurish perfetto ok servo e che andrò a attivare ok in questo caso va a prenderlo tutto in automatico ora altra cosa che mi servirà è quello di craftare i libri ok ne ho 27 poi da qui nuovamente tutta la trafila del crafting non devo arrivare in totale a 15 se non sbaglio quindi in teoria non ok posso ok posso farti l'upgrade ok tu sei al posto vediamo se 26 libri dovrebbero bastare spero vivamente di sé ovviamente non li vado a utilizzare tutte 14 e 15 anche perché come ripeto che ne servirebbero giusto 15 ora dove come dove ti posso piazzare direi qui 2 3 ok ho tutto il set però non ha corrente ora devo andare a recuperare delle batterie semplicemente non so se andandole a mettere a metterne una attaccata basti a basti sempre a far ricraftare le cose incant' spero che basta no e quindi devo andarlo a trovare ok ok tu mi vuoi mi vuoi attaccare ok diamo nel ok sinergetica l'energi in teoria questo sistema uno lo uno estrae l'energia della batteria e la mette di sotto quindi con semplicemente due blocchi ok in questo modo ok però rimane sempre senza energia quindi l'unica cosa che posso provare a fare è questa ok sei carico e stai craftando e quindi ne approfitto anche per mangiare ok ci vorrà un po' di tempo e tutto questo per fare solo alcuni blocchi dell'epil infused ora devo fare questo tu come ti crafti ah atomic regustur ok mentre qua fao io direi che posso tranquillamente passare di qua intanto te ti ho fatto non mi servite allora ora non ricordo quale tipo di blocco di quarzo serve per fare la posso fare ok e in questo modo in teoria dovrei farmi giusto il mio blocco cioè il mio stack è 2 e vado a prendere di qua l'energia così approfitto per ah è questa qui quella classica ce l'avevo di là ok ce l'avevo già quindi però una cosa posso fare no non è questa ok questo continuerà a fare finché non avrà quindi ce l'avevo una scusate ma a volte non collego il blocco con quello che ho e ok ok ora devo continuare di qua ok le nuggets mi serviranno perfetto ok se ne sono riuscite a fare ora vi posso posare tutti ora da te cosa mi manchi cosa mi manca cosa mi manca è il corso normale sempre lì allora allora tu dovresti essere carico ancora in teoria si ok quindi diciamo che questo blocco me lo terrò all'interno del dell'inventario ok ora direi per fare il resto mi manca lutto iron casing tu come ti graffi ok 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 ho finito il ferro no non volevo fare te ma tu che sei il catalyst ora tu come ti graffi ok sicuramente serve single battery però per fare single battery mi servirà questo con reactor e redstone ci vado a fare giusto un paio di stacca e dovrei andare tranquillo penso ora uno batteria l'ho fatta quella doppia si fa in questo modo ok e per fare questo essere piena si deve essere piena e quindi ora ti vado a caricare qui ho qualcosa di per caricare si un'altra batteria quindi in questo modo dovrei avere l'ultimo componente ovvero l'empower tutto questo per mettere questa roba qui non so se ti serve energia in teoria cosa intanto ti piazzo qui tocca punto stai ok aspetta ma l'empower non è questo che ho di qua si è proprio lui quindi diciamo ne sono andata a craftare un altro ok red sono il double compressed allora double compressed dovrebbe essere questa invece di qua vado a prendermi un po di redstone due tre e quattro e qui al centro vado a mettere lui ok 40 pezzi penso abbassano avanzano base essence ingotta diciamo che di default bastano le cose che stanno diciamo le di redstone basta redstone ok mentre tu intanto crafti vado a vedere l'ultimo componente cosa si fa infuse diamond ok questo è un po più complesso da craftare no non è vero e diranno sempre la redstone no koal sto giro ma questo giro koal ok quindi di default dovrei aver quasi finito perché di lì mi mancherà solamente l'ultimo componente ovvero l'ultimo componente ovvero la diamond cesta e dovrei in teoria aver finito tutto poi ora ok mi manca del vetro e non c'è problema per farmarlo anche perché in questo modo ci metto veramente veramente un attimo ah ok ti si riempì un'altra volta ok tanto un secondo dovremmo aspettare per per finire il il crafting diciamo la cottura del vetro quindi diciamo che non è un diciamo non è un problema aspettare un secondo ok in teoria avremmo finito qui di svuotare un po' pietra ok ok la cesta sta qui ha un po' di vitro corto già ce l'avevo ok riesco a craftare più o meno uno stack e 6 ok ora dovrei avere tutto esattamente e ho finito il la questa ora no non ve lo fare lo screen neanche vedete qua tu sai il fluid display sono curioso una bella cesta comunque ok allora direi che per questo video è tutto spero che il video vi sia piaciuto intanto io metterò qui a sfruttare ancora un po' questo questo crusher il double crusher per per continuare a produrre buon meal no volevo aprire te pensi volevo aprire te ok intanto questo andrà e butterà tutto qui dentro e direi che questo video è tutto spero il video vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando lasciate un bel mi piace di iscrivervi al canale e di seguirmi su twitter e instagram facebook ovunque voi vogliate io vi saluto e ciao a tutti voi ciao a tutti